Buongiorno! Buongiorno! Oggi, lezione di scienze! Bella bro! Bella bro! Sono il prof Zanza, benvenuti nella mia lezione di scienze del Marano! Bella bro! Vediamo se siete preparati! Quando faccio l'appello? Bisogna mettere il borsello! Brava bro! E quando se sbatti e stai toccando il fondo? Ascolta, sciva e rondo! Bro, ma sei una bro! E quando sei abbattuta? Mi compro una nuova tuta! Bro, spacchi! Ti metto 10! Grazie bro! E adesso balliamo la Sturdy! Oh bro! Scusi bro! Sì, fra? Non siamo capaci di ballare la Sturdy! Bro! Fra, fra! Fra! Fra, bro! Bro! Bro, fra! Bro, fra! Bro, fra, bro, fra! Bro! Tu di presidenza! Alessia! Svegliati, è tardi! Ancora cinque minuti! Zio, svegliati, è tardi! Ancora cinque minuti, mamma! Mamma! Dai, devi portarmi a scuola! Ti alzi o no? Ma cosa ci fai già svegliati? Non ho dormito! Sono appena rientrata dall'after! Come l'after? Sì, ho fatto la maratona di serie tv su Netflix con le mie BFF! Dai, fammi un coffee triplo! Che sennò mi sale la botta di sonno in classe e vado in para! Sì, signor capitano! Vado stupido! Siamo! Vieni, Alessia, oggi ti interrogo sulla letteratura italiana. Parliamo di Alessandro Manzoni. Alessia, oggi ti interrogo sulla letteratura italiana. Che bello! Manzoni, Leopardi, Petrarca... ArtiFive, con la sua rinomata opera, La Gattina. Wow, che autore illustre! Vediamo se hai studiato. Mi sto cringiando! Non mi dire cosa fare? Perché non sei la mia mamma! Non mi dire cosa fare? Perché non sei la mia mamma! Non mi dire cosa fare? Perché non sei la mia mamma! Fa miau 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 quando tocco! Le gatina, la gatina, la gatina, la gatina... LA GATTINA, LA GATTINA, LA GATTINA, LA GATTINA, LA GATTINA, LA GATTINA! Minchia, che poeta, ragazzi, che poeta! Un applaudo! Meno male che posso studiare su internet. Povera Italia! Alessia, muoviti, siamo in ritardo per la scuola! Un attimo! Eccomi sono pronta Minchia flash Alessia muoviti che siamo in ritardo per andare a scuò Ma cosa stai Zio sta in chill Sto facendo la skin care Le unghie e un bel massaggio Poi devo scegliere l'outfit per il back to school Con il mio stylist Sì intanto io sono pronto da due ore E infatti si vede Cosa vorresti dire? Sembri mio nonno Manuel che succede? Non ho fatto i compiti di eri maestro Dai recuperi domani Non è mica un dramma Manuel che succede? Dimenterò padre Cosa? Eh sì bro è stato un errore No no quello ovviamente un errore ma come? Ma cerca di capire fra Ero in serata Oh signora Però i compiti di ieri li ho fatti tutti Ah ma allora sti cazzi Bravo Manuel Un applaudo per Manuel Bravo Bravo Sono orgoglio Manuel 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 Oggi bambini parleremo di Alessia sei in ritardo Scusa maestro Non deve mai più accadere una cosa del genere Ehm Ehm Solo gioco Beh cosa guardi? Alessia sei in ritardo Ero andata un attimo ad Arise a fare shopping Ma c'è la scuola Ci sono gli orari C'è la disciplina Questa cosa non deve succedere mai più Ma come ti permetti? Questo è mobbing Mobbing? Ma che mobbing? Nessun problema Farò una class action contro la scuola Una class che? Vi mando in rovina E io ti mando in presidenza E io dico a tutti chi ha il parrucchino E io chiamo i tuoi genitori E io dico a tutti che hai comprato la laurea E io ti dico di accomodarti al posto E ti do anche un bel dieci sul registro elettronico Grazie Complimenti davvero Ma come facevi a sapere che ho comprato la laurea? E' palese amo Ah è palese Bene bambini ditemi Che cosa volete fare da grandi? La scienziata L'ingegnere Il pilota di aeree Bambini cosa volete fare da grandi? La Ferragni Lo streamer Crypto Guru La T-Toker L'influencer E tu Manuel? Io maestro voglio fare un lavoro più semplice Ah finalmente Basta con queste cose complicate Cosa vorresti fare? Aprire O.F. con la mia tipa Oh la madonna! I Pantellas Commentate, condividete E iscrivetevi al canale Ciao